un saluto a tutti i fan che calorosi ci seguono sempre questo vabbè scaccolarsi è ottimo vero? vuoi provare? aspetta aspetta qua c'è una cacca dove? ok vabbè che schifo qua c'è rimasta pure BOOM 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 si vede questo pensavo fosse esploso qualcosa coglione tu? eh? due anni tu andatevi davanti, alzatevi su alzatevi su ma non è uno di voi ma guarda qua sono loro i sendai coglione è come un concorso ma non cazzo ma non cazzo ma non cazzo 3.13c eeeeh molto buone come mai fosse? come mai? come mai? ma chissà oh oh la dio fratea la dio che cos'è? mi restituo io è un turbinio poi di battute insieme tutto a calcare braccio cosa fai? via è proprio più artigianale di così con la canna da pesca ma la canna da pesca allora eccolo come vale berede il bum La polizia, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per scoprire se le... Ah! Ma è in avanzato stato di... Oh Giuda! Due corpi sono stati... Ah Gesù! Ha trovato... È stato... Ah donna! Ma della non ridere! Francesco, in queste ore gli inquirenti stanno vagliando tutte le piste. Che cazzo? Da dove ci sono scoperto? Ci sono. Pure io. Sendai, due diciassette, F seconda. Ah ah ah! Che cosa è successo? Un altro pezzo è andato. Va bene dai. Poi ce lo ricompreranno. Eh? Dai! Vai! Sì! Sì! Grazie! Sono? Sendai, due diciassette, F. Porca puttana! Il panettiere è muovo finito. Era un macellaio! Hai capito? Cambia mestiere così. Ma il macellaio a quest'ora, che va a fa? Va a scogliare. Scogliare la gente e poi lo riprende. Ma dai! Che non è cinese. No! Vabbè perde pure i pezzi di auto. Ogni tipo di merda. Che tipo di macchina ha? Uno si chiede che tipo di macchina. Se n'è andato? No, aspettiamo che... Ottimo non gli parla. Che cazzo è andato. Dichiarazione shock. Sono io, Sendai. grazie